Si apre un anno scolastico, speriamo non a singhiozzo come lo scorso anno, che è stato caratterizzato da periodi di quarantena e di didattica a distanza fra una settimana e l'altra. È con questa speranza che oggi è iniziato il nuovo anno scolastico. La prima campanella è infatti suonata in provincia di Arezzo per 16.871 ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, 9.121 della secondaria di primo grado, 13.321 della primaria ed infine 5.843 della scuola dell'infanzia. I ragazzi hanno veramente dato un esempio, partendo dai ragazzi della scuola primaria, dove sono stati pochissimi i casi di ragazzi contagiati, si pensa, in ambito scolastico. Hanno mantenuto delle distanze, hanno fatto un grosso sacrificio di non uscire, di non condividere con il compagno di banco anche l'attività didattica quotidiana. E quindi un ringraziamento va ai loro in prima persona, ma anche alle famiglie che hanno saputo sensibilizzarli rispetto al problema del virus. Ovviamente anche questo sarà un anno ancora segnato dall'emergenza sanitaria, con ingressi scaglionati e diversificati, mascherine, termoscanner e la novità del Green Pass, obbligatorio per tutti coloro che accedono agli istituti, meno che per gli alunni. Le scuole ovviamente non sanno quale sia la provenienza del Green Pass, se tampone, vaccino o altro. Noi ci limitiamo a registrare il possesso o meno da parte delle persone. Quindi c'è anche un numero che io ritengo abbastanza ridotto di coloro che ogni due giorni ricorrono al tampone. È una soluzione che le persone possono liberamente accettare. Evidentemente questa soluzione comporta dei costi anche personali.